Il presidente della provincia di Trento, Ugo Rossi, è intervenuto oggi ad arco presso la Scuola delle Professioni per il Terziario dell'Università Popolare Trentina alla cerimonia di inaugurazione del nuovo logo e denominazione, a cui hanno partecipato autorità locali e un centinaio di studenti. Un libro è la rete web, i simboli racchiusi nella nuova effigie con cui viene rappresentata la modernità e nello stesso tempo la tradizione della scuola. Il cambio del logo vuole rafforzare la mission di queste scuole per consentire ai ragazzi di inserirsi in modo ancora più efficace e preparato nel mondo del lavoro. Hanno ricordato il presidente dell'Università Popolare Trentina, Ivo Tarolli, e il direttore della sede di Arco, Paolo Zanlucchi. Non c'è contraddizione tra cultura e mondo del lavoro, ha detto infine il presidente Rossi, perché la scuola è un luogo dove apprendere delle nozioni ma allo stesso tempo dove costruire il futuro, esortando i ragazzi ad essere i protagonisti del proprio futuro, mettendoci tanto impegno e un pizzico di ambizione. Sentiamo ora l'intervista al presidente della sede di Arco, Paolo Zanlucchi. Un momento molto importante per noi, un cambiamento che non è soltanto un cambiamento di logo, ma un cambiamento proprio di mission della nostra scuola. Nel vecchio logo in primo piano c'erano due mani, cioè la formazione professionale era pensata soltanto come il luogo del fare. Oggi invece la formazione professionale, e il logo lo dimostra, è anche il luogo del sapere, il luogo della cultura, il luogo della cultura del lavoro. Ci può dare un bilancio per quel che riguarda la sede qui di Arco? Ma direi un bilancio assolutamente positivo. Noi in questa sede, qui a Mogno, in via Gazzoletti 10, siamo da 5 anni e mezzo. In questi 5 anni e mezzo di strada ne è stata fatta, tant'è vero che nei numeri noi siamo praticamente raddoppiati rispetto al 2009. Questa è una soddisfazione molto grande, soddisfazione che viene data soprattutto perché è migliorato soprattutto il rapporto fra mondo della scuola e mondo dell'impresa. Noi oggi abbiamo oltretutto un tasso di occupazione dei nostri alunni al termine del loro percorso quadrennale di studi che è intorno all'80% in sei mesi. Questa è la nostra più grande soddisfazione.